I giornalisti, tutti i parti, siamo molto contenti. E anche qui in maniera quasi compulsiva sui mobili. Sono tutte parole come street people, civil law, che appartengono a una specie di vocabolario, diciamo così, dell'artista, che ha molto a che fare anche con dell'istanza di natura politica e sociale. Grazie a tutti.